La linea ferroviaria che collega Novara con Varallo-Sesia verrà riaperta? Le voci si fanno sempre più insistenti e gli indizi sono diversi. Durante l'ultima audizione in Commissione Consigliare Permanente della Regione Piemonte, competente in materia di trasporti, è stata presentata la richiesta di riapertura della linea Novara-Varallo. A questo proposito verrà presentato a breve un documento ufficiale a firma di tutti i sindaci della Valsesia. Forse la linea ferroviaria chiusa nel 2014 potrebbe avere qualche speranza di riapertura. Inoltre, in cento anni di storia, i treni che viaggiavano lungo la tratta ferroviaria tra Novara-Varallo sono stati un collegamento preziosissimo per laboratori e studenti che si spostavano dalle valli fino alla città. Ma qual è la storia di questa linea? I primi progetti della linea Novara-Varallo risalgono alla metà dell'Ottocento e furono realizzati dagli ingegneri Giuseppe Antonini e Giulio Axerio. L'apertura della linea avvenne per tratte a partire dal 1883 e terminò l'11 aprile 1886. L'inaugurazione venne accompagnata da grandi festeggiamenti. Infatti, il sogno di collegare le valli valsesiane era divenuto realtà. Questo significò il reale sviluppo sociale, economico e culturale di tutti i territori attraversati dalla ferrovia dall'Alto Novarese fino alla Valsesia. L'importanza di quest'opera fu tale che dalla stazione di Grignasco venne realizzata una diramazione della linea per servire la Valsessera nel 1908 e vide la luce anche il progetto del prolungamento della tratta da Varallo fino ad Alagna. Il resto è storia. La linea ha mano a mano perso importanza per la rete ferroviaria italiana che ne ha annunciato la chiusura ed il suo smantellamento fin dal 2008. Ad oggi, sull'unico binario rimasto, viaggiano solo i treni storici. E pensare che nel 1984 persino Papa Giovanni Paolo II utilizzò proprio il treno per visitare il Sacro Monte di Varallo. Ma oggi, nel 2022, forse è tempo di scrivere un nuovo capitolo di questa storia. Noi seguiremo lo sviluppo della vicenda, solo su SniperWebTV.